Trinacra Team presenti Ciao 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 Sono trepator Quindi le conosco estretamente Non le zaccizzano Perro Perro Riccetto Ora guarda come è sbagliato E' sbagliato dove è ricello Ovviamente il pizziano è comandato all'inizio No? Senti, non mi forse fanno Vengo meglio Vengo meglio Vengo meglio Vengo meglio Vengo 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 andiamo C'è un'altra cosa. Grazie a tutti. Grazie a tutti.